Buona giornata e ben ritornati negli studi di Teleradiopace in questo giorno del 23 di gennaio siamo arrivati così a martedì, secondo giorno di questa quarta settimana di gennaio e siamo arrivati con il Buongiorno di Teleradiopace, la seconda edizione andiamo subito a salutare Paolo Solari che cura la parte tecnica in regia e Cristina Oneto che è già in redazione al lavoro per noi e tra poco ci collegheremo con lei ma adesso andiamo a vedere quali sono i santi ricordati oggi anzi oggi c'è una solennità speciale che ricorda un po' tutte le famiglie lo sposalizio di Maria Giuseppe che viene celebrata e festeggiata come di tradizione il 23 gennaio e ancora Santa Emerenziana Vergine Martire, Santi Delfonso da Toledo, Santi Clementi e Agatangelo Martiri San Maimbodo, poi ancora Sant'Anastasio, Sant'Andrea Chong Wai Giong e San Severino e Aquila Martiri auguri a tutti coloro che oggi ricordano e festeggiano un santo patrono che festeggiano la solennità dello sposalizio e naturalmente auguri anche a coloro che oggi ricordano magari un loro sposalizio, un anniversario particolare, una lieta ricorrenza o colore che in questo 23 gennaio compiono gli anni auguri naturalmente e adesso andiamo a vedere, a parlare della situazione meteorologica prendo le nostre finestre e le finestre che Paolo Solari ci apre non solo qua sul Tiguglio ma in giro per la Liguria perché la mattinata un po' a sorpresa forse non ce l'aspettavamo, anzi io me l'aspettavo perché avevo visto le previsioni però chi non guarda magari con attenzione alle previsioni non si aspettava dopo una serata come quella di ieri molto novembrina, una serata con pioggerellina e nuvolosità e umidità molto alta e temperature abbastanza alte rispetto a quelle che abbiamo sentito nel weekend insomma non si sarebbe aspettato invece una mattina così bella con il sole che già sta baciando gran parte della nostra regione, ecco qua siamo a Portovenere, invece è un po' più buia la situazione qualche nuvole in più perché in effetti ci sono ancora delle nuvole residue soprattutto sull'estremo Levante, soprattutto nelle zone interne mentre invece in altre zone come la nostra, il nostro Tiguglio abbiamo già un rasserenamento totale ma cosa sta succedendo? Sta succedendo che appunto si sta ampliando un'aria di alta pressione che ormai si estende per gran parte dell'Europa Mediterranea quindi cosa succederà in questa settimana? Succederà che il tempo intanto sarà stabile quindi non sarà più variabile come abbiamo visto nella giornata di ieri in cui abbiamo avuto praticamente tutti i tipi di tempo possibile una mattinata molto fredda e limpida, un pomeriggio tiepido e nuvoloso e poi una serata piovosa, quindi abbiamo avuto davvero tutti i tipi di tempo immaginabili e attuabili in questo periodo dell'anno. Quindi stabilità meteo, qualche nuvola in più nella giornata di domani perché voi sapete che l'alta pressione d'inverno può causare anche un annuvolamento marittimo costiero e poi avremo naturalmente una temperatura, dico naturalmente perché è chiaro quando c'è un po' di alta pressione di questo tipo d'inverno le temperature tendono un po' a risalire perché l'aria che arriva è un'area decisamente più riscaldata lo ricordiamo un po' le alte pressioni fanno quasi da campana di vetro e quindi bloccano un po' la circolazione dell'aria e questo causerà ovviamente un all'alzamento delle temperature che in realtà c'è già stato e che nei prossimi giorni ci porterà ad avere della variazione quasi nulla tra il giorno e la notte, quindi avremo delle notti e delle giornate più o meno con le stesse temperature, una bassissima escursione termica cosa che invece ieri per esempio abbiamo avuto al massimi livelli più di 10 gradi di escursione termica. Andiamo con ordine per vedere le temperature iniziando dalle alture abbiamo temperature ovunque positive tranne che a parazzuolo di rezzo aglio ma andiamo per gradi allora in questo momento abbiamo un grado 0.9 al prato della cipolla quindi temperatura abbastanza elevata con ormai la neve ridotta al minimo no, neanche indispensabile ma al minimo proprio però la minima della notte era scesa nella prima parte della notte a 0.1 quindi eravamo arrivati vicino allo zero termico poi ci siamo un po' allontanati 3 gradi 0.4 allo cadaveto e la minima della notte è stata di 0.6 poi dicevo l'unica temperatura negativa quella di parazzuolo di rezzo aglio con meno 0.4 perché per esempio a cabanne abbiamo 7 decimi di grado ma sopra lo 0 e abbiamo 0.4 a rezzo aglio basso sempre sopra lo 0 andiamo invece in Valle Sturla con i 4 gradi e 4 di Belpiano in Val Graveglia con i 7 gradi e 7 di Pontori in Val Fontanabona con i 4 gradi e 9 di Favale di Malvaro e i 5 gradi di Pezzonasca di Moconesi i 6 gradi punto 2 di Pian dei Tioretti di Tribogna i 6 gradi e 7 di San Colombano e i 7 gradi e 4 di Villa Oneto scendendo sulla nostra regione non abbiamo più le temperature rigidissime che abbiamo visto ieri, ieri ve l'avevo detto guardiamo queste temperature che decisamente non le vediamo così spesso e non le vedremo ancora in questa settimana perché sapevamo già dell'inalzamento delle temperature ieri avevamo 2-3 gradi proprio sulla costa oggi invece abbiamo addirittura 10 gradi su Santa Margherita Ligure 8 gradi e 1 su Rapallo 8 gradi e mezzo su Chiavari poi su Lavagna 6 gradi e 9 su Berissi e poi ancora 7 gradi e 7 a Sestri Levante 9 gradi e 9, quasi 10 gradi a Moneglia il Golfo Paradiso, Ruta di Camoglio 8 gradi e 7 a Sori 10 gradi e 2, 10 gradi e 4 a Genova Nervi andiamo nell'interno di Genova Marassi 6 gradi e a Prado 9 gradi e 1 sulla costa Savonese 7 gradi a Celle Ligure a Imperia 6 gradi e 7 a Ventimiglia 7 gradi e 9 e anche la Spezia che ieri aveva un grado e mezzo 2 oggi ne ha addirittura 10.3 quindi in un solo giorno c'è stata un'escursione termica nelle stesse ore della giornata di addirittura 8-9 gradi quindi è veramente un inverno che definirlo inverno è difficile davvero perché abbiamo avuto degli scampoli d'inverno poi questo eterno autunno perché possiamo dire che queste sono temperature da mese così di ottobre, novembre, massimo, massimo inizio dicembre ma a questo punto le temperature dovrebbero essere più simili a quelle di ieri anche se ieri abbiamo avuto veramente temperature molto molto basse quindi una giornata quella di oggi caratterizzata dal sole e da questo tempo anche molto mite da questo clima molto mite vediamo ancora un moto ondoso piuttosto importante qua da noi ma il moto ondoso andrà diminuendo nel corso della giornata quindi non ci saranno ulteriori mareggiate rispetto a quello che già abbiamo avuto nelle ultime ore anzi appunto il mare che vediamo in questo momento in questa webcam piuttosto agitato andrà calmandosi nel corso della giornata anche qua nel sul Tiguglio comunque abbiamo un moto ondoso di tutto rispetto allora chiudiamo la parentesi meteo ringraziamo Paolo Solari per questo giro della Liguria che ci ha fatto fare come quasi tutte le mattine e andiamo adesso invece al quotidiano e quotidiano indicole iniziando da Avvenire che esce appunto martedì e parla soprattutto del consiglio permanente della CEI e delle parole del presidente della CEI Matteo Zuppi, cardinale Matteo Zuppi arcivescovo di Bologna non lasciamo solo il Papa dice così Zuppi la profezia di Francesco sulla pace è un valore unico per l'umanità da noi vescovi italiani una speciale vicinanza in apertura del consiglio permanente CEI l'esortazione a coltivare l'anima dell'Europa e a non cedere al declino è il tempo della Chiesa dice sulle benedizioni quelle soprattutto alle coppie omosessuali appunto Zuppi dice misericordia senza derogare al Magistero quello che ha detto anche il Papa durante l'intervista a Fabio Fazio l'editoriale di Rosario Aitala voce giustizia agli invisibili per creare il tempo della pace e poi ancora Clochard altri due casi a Torino Frosinone il bersaglio vive vile dei senza tetto Medio Oriente Israele due mesi di tregua per gli ostaggi l'Unione Europea leva gli scudi sul golfo il fine vita torna alla consulta un giudice di Firenze solleva la questione di costituzionalità e Flick dice una legge ci vuole una legge nazionale Meloni delusa dall'asse con Macron le europee al 50% mi candido la Premier ieri sera ricompare nel nuovo anno in televisione non c'era mai stata fino ad oggi e alla Quarta Repubblica di Luca Porro su Rete4 appunto da queste indicazioni che poi oggi vengono riprese da gran parte dei quotidiani in edicola dal caso Mangan il no al razzismo e oltre lo sport i fischi al portiere del Milan e poi l'addio al grande Gigi Riva che è scomparso ieri sera dalla sua Cagliari il calcio si inchina a rombo di tuono oggi davvero tutti i quotidiani in edicola fanno un omaggio particolare a Gigi Riva e anche naturalmente il secolo XIX che titola un salto fino al cielo vediamo questo leggendario gol in maglia del Cagliari di Riva che è stata la bandiera di questa squadra che grazie a lui ha vinto uno scudetto è morto a 79 anni Gigi Riva bomber da leggenda è grande personaggio perché oltre il Cagliari chiaramente è stato un punto di riferimento per molti anni della nazionale prima come calciatore poi come dirigente ricordiamo che era lui uno dei dirigenti dei mondiali della Germania del 2006 il dolore di un suo compagno nazionale Gianni Rivera il compagno ideale e bandiera unica dice appunto di Gigi Riva e poi c'era anche questa assonanza di nome Riva Rivera che insomma era anche piacevole adesso invece siamo sulla notizia principale assedio contro Netanyahu ma non sono i terroristi di Hamas ma sono i familiari delle vittime e soprattutto i familiari dei rapiti degli ostaggi di Hamas che occupano il Parlamento in Israele Mar Rosso primo sia la missione dell'Unione Europea l'Europa spinge per i due stati gelo con Tel Aviv ipotesi sanzioni Borrell con l'operazione militare a Gaza si semina odio per generazioni e poi ancora minacce raddoppiate l'antisemitismo in Italia ha rialzato la testa ricordiamo che siamo a pochissimi giorni dalla giornata della memoria appunto la giornata che ricorda la Shoah Genova gli studenti raccontano i loro nonni cacciati dalle scuole e poi ancora dalla prima pagina del secolo sanità toti ai manager che appunto gestiscono i budget delle varie ASL conti ok o andate via e poi ancora in aula l'ex ministro Costa ministro delle infrastrutture parla del Ponte Morandi non sapevo sentiti anche Patuanelli e Cerchiai lo spazio Lido da record piace sempre di più a Chiavari questo appunto punto di ritrovo per i ragazzi per lo studio dei ragazzi nei locali molto ampi del Lido di Chiavari che è stata una discoteca quindi sempre un po' dedicata ai ragazzi ma questa volta non ha un momento di svago o addirittura di sballo ma è per un momento di studio quindi un momento formativo importante è un luogo dove i ragazzi possono trovarsi a lavorare insieme e adesso andiamo a parlare di altri argomenti sempre dal secolo XIX di oggi andiamo a Rapallo c'è questo articolo a firma di Simone Rosellini crisi in periferia il caso di Viabetti negozi chiusi e zona da rilanciare certamente parlare di periferia di Viabetti cioè Viabetti da un punto di vista così geografico è a 100-150 metri dal centro di no 150 metri adesso sto un po' esagerando però insomma diciamo a 500 metri dal centro di Chiavari anzi inizia praticamente quasi nel centro di Chiavari quindi le periferie fino a un certo punto perché le periferie sono molto a volte chilometri e chilometri dal centro Rapallo è un condensato di città quindi c'è tutto lì è tutto vicino quindi anche la periferia è a un passo dal centro però è chiaro che sono luoghi di non passaggio ecco questo sicuramente non sono i luoghi del passeggio dei turisti eccetera sono luoghi residenziali dove la gente vive abita ma non ci passa il tempo libero e questo chiaramente manda un po' in crisi tutto il settore del commercio addio alla macelleria la boutique vintage si trasferisce in centro più parcheggi e movimento la concorrenza dell'online e la carenza di servizi tra le ragioni di chi lascia appunto in questo spazio di viabetti Tasso dice la chiesa di Santana è diventata appunto di aggregazione ma il commercio soffre anche in questa zona quindi è chiaro che nelle nostre città sempre di più si stanno svuotando gli spazi nei luoghi periferici nei luoghi un po' più distanti dal centro e dal mare perché poi chiaramente per i nostri centri rivieraschi il centro corrisponde poi con la passeggiata mare a parte alcuni casi come Chiaveri però insomma Rapallo, Santa Margherita Sesto Elevante sicuramente è così quindi più si avvicini al mare più c'è commercio turismo e quant'altro più ci si allontana dal mare più un tempo c'erano tanti residenti che andavano appunto in questi negozi adesso sempre di meno anche perché diciamo che Rapallo per esempio è una cittadina che ha forse il record per il maggior numero di supermercati quindi anche questo è chiaro i supermercati tolgono moltissimo lavoro ai negozi al dettaglio questo è ormai un dato senza possibilità di discussione quindi c'è tutta un'analisi appunto e interviste per parlare di questa situazione che non riguarda evidentemente soltanto Rapallo ma un po' tutti i centri i centri della nostra riviera della nostra regione e un po' tutta l'Italia si è parlato ieri in un convegno soprattutto di riqualificazione urbana cioè anche i piccoli centri anche i piccoli paesi potranno avere dei fondi molto importanti per poter riqualificare per esempio i loro centri storici e i loro abitati e allora andiamo a sentire appunto i risultati di questo convegno Ammontano oltre 8 milioni di euro le risorse messe a disposizione dei centri medio piccoli della regione Liguria per opere di rigenerazione urbana nella sede di Anci Liguria si è svolto il primo incontro di presentazione del programma triennale regionale 2024-2026 riservato ai comuni delle province di Genova e Spezia a cui ne seguirà un secondo per il centro ponente i fondi sono destinati principalmente a recupero e valorizzazione dei piccoli centri si tratta di andare a recuperare nel contesto urbano edifici luoghi anche di incontro luoghi che abbiano la possibilità di una ecosostenibilità secondo i canoni moderni quindi migliorare sostanzialmente l'urbanistica e l'edilizia urbana la procedura di assegnazione dei fondi non sarà più fatta attraverso bando ma con una manifestazione di interesse che porterà a stilare elenchi con riparto dei fondi su base provinciale secondo il fabbisogne sulla base del livello di progettazione noi parliamo di un finanziamento che può variare passare dai 250 mila euro a 350 mila euro con un 5% di confinanziamento del comune ma questo ci permette soprattutto nell'entroterra nelle borgate ma anche nei grandi centri come Genova Spezia Imperia Savona di poter riqualificare zone strategiche del territorio l'obiettivo è quello di proseguire l'opera di riqualificazione di piazze vie, alloggi e centri urbani già avviata nel 2023 pensate oltre 100 cantieri in meno di due anni è un'operazione straordinaria che è più piccola ma vi posso garantire che per numero di cantieri supera addirittura il PNRR da parte di Anci Liguria massima collaborazione con Regione Liguria con l'ospicio che possono essere semplificate le procedure burocratiche la vendicontazione in fondo a valle del sistema e all'inizio ma non è colpa di Regione qui i CIG quindi la possibilità di fare gli affidamenti qui è ANAC che è andata in crisi con l'inizio di quest'anno per cui coloro che fanno le gare le stazioni appaltanti hanno difficoltà a prendere i certificati per affidare il lavoro questa è la cosa più grave di tutto però mi rendo conto che oggi dobbiamo parlare di speranza futura ma questo è un problema che deve essere superato e deve essere superato subito allora dai piccoli paesi dai paesi medio piccoli e passiamo invece alle aree protette l'area protetta del parco nazionale di Portofino a un momento di diciamo così vuoto gestionale perché il parco nazionale è al palo manca l'organo di gestione spetta al ministro anche la scelta del presidente perché chiaramente passando di gestione dalla regione allo Stato al ministero dell'ambiente è chiaro che ci siano dei vuoti che devono essere riempiti il decreto di Picchetto Frattina ha sancito la creazione della riserva con tre comuni ma il comitato provvisorio non è stato ancora nominato le forze al governo potranno contare su sette voti sicuri sui nove previsti quindi con una maggioranza schiacciante all'interno della gestione quindi bisogna vedere se appunto anche il ministero deciderà di affidare a come è stato finora diciamo esponenti delle istituzioni locali sindaci delle tre comunità oppure darà diciamo il compito a persone che arrivano un po' dall'esterno insomma staremo un po' a vedere quali saranno le scelte del ministero e intanto a Camogli l'allarme a Mianto cioè la bonifica sul tetto dell'istituto Marco Polo della città metropolitana ha stanziato per questo intervento 137 mila euro allora abbiamo letto anche questi articoli che sono arrivati dal Tiguglio occidentale adesso invece ci spostiamo ci spostiamo a Chiavari ma direttamente nei nostri studi perché abbiamo con noi dalla redazione Cristina Oneto buongiorno Cristina buongiorno Marco un saluto a tutti gli ascoltatori ci spostiamo a Chiavari e a Chiavari rimaniamo anche con la notizia che sto per darvi anticipando quella che sarà poi la rubrica il santo del giorno di domani mattino ma per quella vi rimando al Tg Rassegna Stampa di domani insieme a Marco Revello domani infatti si celebra la chiesa fa memoria di San Francesco di Sal patrono dei giornalisti e il nostro patrono che come sempre celebreremo insieme al nostro vescovo insieme ai giornalisti alle testate giornalistiche di tutto il comprensorio con un momento di preghiera e di riflessione questo momento si svolgerà domani mattina alle 10 con la Santa Messa che sarà preseduto dal vescovo Giampio De Vasini nella cappella maggiore del seminario di Chiavari e poi seguirà un incontro di formazione incentrato su un tema di grande attualità intelligenza artificiale e sapienza del cuore per una comunicazione pienamente umana questo è il tema scelto da Papa Francesco in occasione della festa del patrono dei giornalisti l'incontro si svolgerà nell'aula Monsignor Ferrari del seminario vescovile di Chiavari interverrà da remoto Luigi Rancillo caporedattore di Avvenire responsabile dei social e Stefania Berretta responsabile della formazione per l'ordine dei giornalisti Liguri l'incontro sarà moderato dalla presidente Ux Liguri Emanuela Castello e sarà introdotto dal direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocese di Chiavari Don Luca Sardella appuntamento quindi domani mattina per tutti i giornalisti dalla redazione tutto lì nello studio grazie Cristina ci hai parlato anche dell'intelligenza artificiale che è uno ormai degli argomenti più dibattuti nel mondo è stato oggetto appunto anche di questo messaggio di Papa Francesco ma noi scopriamo che l'intelligenza artificiale o quella che viene chiamata intelligenza artificiale poi bisogna anche mettersi d'accordo esattamente su cosa si intende per intelligenza artificiale perché ne sento un po' di ogni in questo periodo quasi tutto rientra poi nell'intelligenza artificiale ma non è proprio così almeno io non l'ho mai intesa proprio così comunque si dice che già questa intelligenza artificiale è entrata nel mondo della sanità e anche nel nostro territorio allora andiamo a leggere sul secolo ASL 4 dagli screening con l'intelligenza artificiale alle strutture ricreate sulla rete l'intelligenza artificiale è già utilizzata per i pazienti polipatologici nel metaverso si studiano gli spazi per migliorare le strutture ma cos'è questo metaverso è un universo diciamo appunto che non è proprio reale è virtuale e appunto il secolo oggi ci dice con un titolo che a me spaventa molto il metaverso è già qui la riviera cambia volto nella realtà immersiva servizi pubblici ma anche commercio una start-up propone locali virtuali alle botteghe storiche Pitta Luga di Shop Teluk ridurremo le distanze parla vicine dell'Ascomo opportunità da accogliere un domani sarà possibile visitare a distanza anche la piazzetta di Portofino un negozio di Santo Stefano potrebbe trovare clienti dall'altra parte del mondo cioè bisogna trovare anche giustamente diciamo degli spunti positivi per queste per queste cose perché a me invece spaventano moltissimo non sono così ottimista su queste su queste robe però appunto se va bene così è vero anche che un negozietto di Santo Stefano Davet insomma non può essere competitivo con i grandi supermercati che offrono quelli sì un sacco di offerte appunto sulla rete quindi va bene la concorrenza è un po' spietata però va bene possiamo dire che appunto la tecnologia ci offre anche queste cose ma poi ci porta anche a delle derive che insomma va bene lasciamo perdere dalla frontiera della realtà virtuale potranno nascere posti di lavoro sabatini docente di web communication si creeranno occasioni beh insomma adesso lo vediamo tutti i per esempio i laureati neolaureati in discipline legate in qualche modo all'informatica riescono a trovare subito lavoro rispetto ad altre discipline magari più umanistiche che hanno invece dei grossi grossi problemi in questo periodo quindi già questo è vero che tutto quello che è legato alla tecnologia all'informatica riesce a creare nuovi posti di lavoro bisogna vedere quanti ne distrugge ma questo è un altro paio di maniche andiamo invece ai ragazzi che studiano e che vogliono comunque inventarsi un futuro che spero che sia anche meglio del presente e del futuro che abbiamo in testa noi speriamo che veramente cambino le cose Spazio Lido è la casa degli studenti da ottobre accessi in forte crescita l'aumento è stato del 371% la media giornaliera è in rialzo del 23% parla la vice sindaca di Chiavari Canepa la Canepa aperture anche domenicali per coloro che vogliono studiare e chiaramente approfittare del tempo del pomeriggio per esempio della domenica per prepararsi magari per esami che poi vengono fatti in settimana un risultato molto positivo che rivela un dato importante Chiavari aveva bisogno di uno spazio come questo dice il sindaco Federico Messutti la riapertura del Lido con una nuova destinazione sociale ci ha permesso di rivetalizzare una struttura vuota da decenni e fornire una risposta puntuale alle esigenze di studenti ragazzi lavoratori il Lido è stato per anni anche una discoteca quindi un luogo dove i ragazzi andavano un po' a ballare a divertirsi adesso è diventato un luogo sempre di grande attrazione per i giovani ma per motivi decisamente più seri andiamo a Luzzati scuola di Chiavari liceo artistico statale che però è messo in forse dalla legge che determina l'autonomia delle scuole a seconda degli studenti del numero degli studenti Luzzati a rischio dopo il mancato accorpamento ricordate che sono stati alzati un po' di scudi contro un eventuale accorpamento con l'istituto De Ambrosis nata di Sestilevante ma la notizia che arriva oggi è che dopo il mancato ampliamento ci potrebbe essere un altro accorpamento con un istituto ancora più lontano che è il Polclì di Genova e non di Genova come ha scritto qualche genuano sul secolo questa mattina Mana della Cigelle dice sul futuro del liceo di Chiavari insomma ci sono un po' delle nuvole nere che speriamo si possano diciamo rasserenare nel corso dei prossimi mesi però l'ipotesi attualmente più credibile è quella di una succursale decentrata del liceo Clì Barabino di Genova quindi comunque Luzzati andrà verso la perdita dell'autonomia forse era meglio appunto unirsi con un istituto almeno di Sestilevante emergenza asili polemica di Bertani comune inattivo Chiavari Canepa dice 10 posti in più al nido tra lido e nido abbiamo un po' di problemi no diceva appunto la vice sindaca che in realtà si sarebbero ampliati i posti a disposizione del nido però questa è una polemica che naturalmente ha scatenato anche molti altri discorsi all'interno diciamo del Consiglio Comunale di Chiavari perché appunto Antonio Bertani è consigliere di opposizione all'attuale maggioranza e poi ciclabile intercomunale chiuso Viale Marconi a Chiavari infatti dalle 10 alle 18 sarà chiuso il tratto compreso tra Rotonda di Viale Marconi e Via Trieste e il sottopasso di Viale Groppo il nuovo percorso ciclopedonale interesserà il nato nord del ponte di Viale Marconi per poi inserirsi nel parco Renzi sul lungo Entella previsti ampliamento del marciapiede e installazione anche di una ringhiera ancora dal secolo XIX di oggi andiamo a parlare di sanità prenotare una mocca impossibile in ASL 4 e scontro a Chiavari sulle liste d'attesa a suscitare questa volta questa polemica è il capogruppo alla regione per il partito democratico Luca Garibaldi che dice i cittadini pagano oppure rinunciano esami di radiologia rallentati dalla carenza di personale ma l'ASL 4 dice saranno ampliati i tecnici e a febbraio partiranno nuove visite per il servizio uro andrologico nuovo ampliamento dell'ASL 3 e presso il nuovo servizio di Recco al primo piano dell'ex ospedale Sant'Antonio e poi c'è un lutto che colpisce la Val Daveto muore all'improvviso Mario Chiesa commercianti e vetani in lutto il panificatore era titolare con i cugini Sandro e Mario figli di Delia Chiesa della storica pasticceria nota in tutta la Liguria per i suoi canestrelli Mario per tutti simpaticamente chiamato Marietto a soli 63 anni si è spento nella notte stroncato da un malore improvviso i funerali saranno celebrati già oggi nel santuario Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano alle ore 15 il rosario invece è stato recitato ieri sera andiamo ancora avanti sempre dal secolo XIX si parla di corsa alla poltrona di sindaco a Rapallo ora per Giorgio Costa è quasi fatta ma spuntano anche i nomi di due donne cioè Antonella Aonzo ed Elisabetta Ricci verso l'amministrativa di primavera ieri c'è stato un vertice tra Forza Italia Lega e il governatore Toti ma Bagnasco dice qui decido io due donne le alternative resta in campo anche il possibile scontro con Campodonico è una possibile diciamo così possibile scisma una possibile rottura all'interno della stessa maggioranza che ora esprime in comune l'amministrazione comunale nei giorni prossimi la coalizione centrodestra prenderà una decisione definitiva e poi si avvicina al giorno della memoria 27 gennaio e come sappiamo inizia un po' sempre con la commemorazione di Coreglia il rabbino a Coreglia no all'antisemitismo anche il capo spirituale della comunità genovese la tradizione commemorazione dell'ex campo di concentramento i ragazzi delle scuole al ricordo dei 23 ebrei italiani deportati il sindaco Noce mai smettere di testimoniare ai giovani lo storico getto Viarengo ha letto la lettera di Ada deportata insieme ai figli di 12 e 16 anni e qua vediamo appunto un momento della celebrazione con il rabbino Giuseppe Momigliano e ancora Shoah la stella di Segre Palumbo brilla al teatro sociale spettacolo venerdì e sabato proprio per ricordare questa giornata di ricordo e adesso vediamo tutti gli appuntamenti della giornata di oggi nella nostra consueta agenda Martedì 23 gennaio è aperto alle visite dalle 9 alle 14 il museo archeologico di Chiavari al primo piano di Palazzo Rocca in via Costa Aguta al suo interno si possono trovare testimonianze dell'età del ferro ed una sezione dell'epoca romana e medievale chiavarese consueto appuntamento con il mercato agricole delle autoproduzioni a Sestri Levante dalle 9 alle 12 in piazzetta Salvi nella zona del Tannino si possono acquistare prodotti del territorio a chilometro zero seduta solenne del consiglio regionale a Genova in occasione del giorno della memoria alle 11 nell'aula Sandro Pertini l'orazione ufficiale di Marcello Pezzetti e la premiazione degli studenti che hanno partecipato al concorso regionale ogni martedì pomeriggio a Lavagna è aperta la Ludo Biblioteca nei locali al piano terra della biblioteca comunale in piazza Ravenna l'orario è dalle 16 alle 18.30 identica apertura al pomeriggio di giovedì ultimo appuntamento per i concerti promossi dall'associazione Giorgio Questa alle 18 a Palazzo Lomellini Patrone in largo della Zecca a Genova concerto per organo solo suonerà Maria Grazia Amoruso Il secolo XIX ci ricorda che in questo prossimo weekend siamo a martedì però già pensiamo al fine settimana nel prossimo weekend c'è quattro palanche weekend con gli sconti a Lavagna e ancora dal secolo XIX violazione sulla strada multe per mezzo milione delle casse comunali Polizia Locale ha illustrato il bilancio dell'attività a recco nel 2023 adesso andiamo invece al meteo meteo che ci parla di un'alta pressione appunto in espansione in questo momento sulla nostra regione con parto europeo del Mediterraneo quindi insomma in quasi tutta l'Europa Mediterranea e questo comporterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche ancora qualche residua nuvolosità sull'estremo Levante poi nel corso della giornata avranno la meglio le schiarite che saranno praticamente generali con i venti che ancora è ciclonico sul Golfo di Genova con rinforzi da sud-ovest moderato teso da nord tra Voltrese e Capomele in giornata generale attenuazione della ventilazione e anche una moderata diminuzione del moto ondoso che in questo momento è ancora piuttosto agitato soprattutto a largo e anche però sulla costa è molto molto mosso ondoso appunto il moto sarà in diminuzione nel corso della giornata tra poco mosso e mosso ovunque in serata temperature in aumento con massime che saranno comprese tra 13 e 15 gradi passiamo alla giornata di domani 23 gennaio l'alta pressione non è sempre fuoriera di cieli sereni ma anche di nuvole perché blocca un po' le circolazioni dei venti e questo causa soprattutto sulla nostra zona delle condense che diventano delle nuvole con la possibilità anche domani sul genovese occidentale di qualche goccia di pioggia ma veramente piovigine mentre invece sul resto della regione il tempo sarà asciutto e sull'estremo ponente è abbastanza sereno con delle velature 20 domani meridionali al più moderati con rinforzi su Capomele mare in prevalenza poco mosso localmente mosso a largo e temperature in ulteriore aumento quindi andiamo da un periodo da due giorni con temperature al di sotto della media sagionale a qualche giorno in centro della settimana con temperature al di sopra della media sagionale quindi veramente una bella alta lena grazie a Paolo Solari che ha curato la regia la parte tecnica grazie a Cristiano Neto che ci ha parlato dalla redazione e naturalmente in redazione insieme ai colleghi prepara il telegiornale delle 12 e 45 noi ci vediamo domani mattina a 7.30 e 8.10 da parte di Marco Revello l'augurio di un'ottima giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti